c'è stata una corsa alla richiesta di rimborsi di grosse donazioni ad amurant ma una volta percepito il fatto che effettivamente lei era sposata tanti sono sentiti truffati hanno chiesto il rimborso e chi ci ha donato tanti soldi pensavo fosse single si pensa la follia questo è stato guarda uno dei primi punti che abbiamo toccato perché lo so bene pure tramite alex e suoi colleghe che appositamente non lo dicono per quella sorta di trucco non svelato chiamiamolo così è follia comunque ma più che altro è follia la priorità in quel momento cioè tu dici cazzo vedo una situazione del genere la prima cosa a cui penso è ridammi i soldi perché c'è il marito fin tanto che si può fare fin tanto che c'ha i soldi tocca a vedere se lei proprio ti diceva sono single quindi magari uno che c'ha pure un rapporto vabbè mi ha detto una cazzata aspetta nel senso che pure ti dice che è single non è che se tu gli fai la donazione nel senso se tu pensi che entrando in confidenza con lei potresti fare l'annamorante perché cazzo manco sei sposato perché vabbè a nella nella deontologia tra virgolette di chi fa quel lavoro non c'è la sincerità e allora non stiamo avendo un vero rapporto e voglio rimborso io capisco chi vuole un vero rapporto però se uno se lei aveva detto sono single mio marito non esiste quindi parliamo tranquillamente e poi si scopre che invece non è così perché non parla pure con una persona sposata scusa ma perché mi devi di che sei single no 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 questo è un discorso importante è un discorso importante da fare secondo cosa diceva diceva che era single fanno bene rimborso 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 allora allora voglio fare una distinzione importante ovviamente come ho detto anche l'altro giorno nel talk di anna secondo me ci sono persone che lavorano in questo ambito che lo fanno in maniera non etica ok che sfruttano effettivamente alcune debolezze che instaurano anche dei meccanismi di meccanismi di sudditanza che si approfittano di persone che magari non stanno benissimo esattamente come il caso dei dei donatori c'è da dire una cosa però io ovviamente non so amurant come lavoro eccetera però in generale tu acquisti al massimo un'esperienza non la verità non acquisti un pezzo della vita di quella persona questo è molto importante ma questo non lo sanno le persone le persone pensano io ti pago rapporto con te e parlo con te ma te faccio un esempio decideva tutto quel tipo comunque quindi non è che poteva incolpare sì però non possiamo incolpare direttamente lei per questa scelta consapevoli del fatto che decideva quasi tutto lui allora se io non mi abbono ad una holyfanser che trovo su pornhub una holyfanser non amurant un holyfanser dato che c'ha 300 fan su holyfans 300 abbonati e lei mi dice che è single perché inizio a parlarci ma non te lo dice personalmente amurant io penso che l'aveva detto pubblicamente credo che rispondeva uno per un buco no queste io so io so che hanno un modo di parlare non con tutti ovviamente ma alcuni dei suoi abbonati se io penso che tu sei single e mi sono abbonato anche se penso che non scopriamo mai perché sono italiano e tu sei americana comunque io penso che sto a parlare con una persona no io penso che se tu mi hai mentito ci rimango male allora posso dire una cosa perché c'è una cosa che mi sto tenendo allora ti faccio anche un altro esempio ancora perché o sto a parlare con alexa o sto a parlare con essere umano voi mi state ponendo una cosa che sembra quasi a metà sì ma non dovrebbe essere una discriminante il fatto che lei non ti sta vendendo deliberatamente la possibilità di poterti mettere un giorno con lei lei ti sta vendendo la possibilità di comunicarci e se lei ha voluto omettere un particolare oppure mentirti su un particolare c'è ragione davide tu stai acquistando un'esperienza non la verità te faccio un altro esempio ancora più limite allora se tu parli con un only fans molto grossa che c'ha migliaia di clienti ve svelo questa questa questo retroscena per ci stanno tantissimi casi in cui quando acquistate la possibilità di avere una chat privata probabilmente non state a parlare giovanna co federica co martina state a parlare magari con sergio collaboratore 45 anni con una panza così stempiato che sta là e smessaggia con voi io dico il discorso se questa non vi ha detto espressamente sono soltanto io che parlo con tutti perché io ci tengo parlo tutti quindi state tranquilli che se acquistate l'abbonamento parlerete sempre con me voi che avete fatto avete parlato con sergione vi siete fatti una bella segra avete goduto come i ricci dov'è che questa esperienza è stata fallace è fallace il momento in cui lo scopri ovviamente non non pagare dopo disattivo l'abbonamento infatti secondo me purtroppo hanno detto per non dire alex purtroppo alex parla personalmente mi rompi i coglioni potremmo fare un paragone facciamo il vero paragone con una prostituta facciamolo allora così ha senso perché lei diventa un'esperienza quando vai con una prostituta sai che ovviamente ci sono anche escort di accompagnamento che fanno finta di essere la piscale esattamente quello la vendita di un'esperienza io scelgo marco perché voglio un compagno per una scena al lume di candela al lume di candela e marco si comporterà in quel contesto come mio compagno non mio fidanzato ovviamente lì tu ma esattamente come anche il ragazzo che era roi cicolò la abbiamo visto anche vari ragazzi in realtà che offrono questi servizi e che poi che ne so il marito per un giorno il ragazzo che ti porta a cena poi ti cucina magari dopo il dolce e poi fa sesso con te anche in maniera amorevole non solo carnale ti dice cose dolci quella è un'esperienza ovviamente ma infatti io se mi fate finire un porco dio di concetto secondo me il problema essenziale di questo mondo qui mercato della solitudine è che chi lo fa in maniera non etica lo può fare anche perché uno si gioca su problemi sociali e in certi casi anche psicologici di alcune persone soprattutto perché non c'è uno strato culturale alla base esempio la prostituta sanno tutti che non ti amerà in quel momento giusto cioè non proverà un affetto per te ma viene a letto con te perché la paghi e lo sanno tutti tutti sanno che un film tutti sanno che mangio pasta cottono che un film è un film anche porno volendo e su questo anzi ritorno nel discorso dell'istruzione perché molti confondono anche il filmato hard con la realtà quindi cazzo allora devo durare 48 minuti di fila col cazzo così duro e le peggio posizioni non usare preservativo cioè tutte cose che ovviamente sono all'interno di una fiction di un recitato anche se porno e per questo che servirebbe anche un'istruzione in un mondo nuovo come quello del sex working cioè bisognerebbe capire che cosa fanno queste persone ti offrono un servizio un'esperienza si chiama anche tipo girlfriend girlfriend experience ti offrono questo servizio e tu non puoi aspettarti da loro la realtà cioè tu non stai parlando con una persona che conosci quindi ti devi arrabbiare perché ti mente quella tra l'altro alle volte deve anche mantenere quella figura che ti ha portato a comprare il servizio è anche è anche secondo me coerente cioè io compro alexis e voglio quella non voglio alessia che sta accanto a me de notte che ne sai scureggia per dire no io voglio quella ragazzi scureggiano tutti è incredibile è incredibile ci hai fatto questo si registra un picco negativo nel prossimo mese da allora allora adesso mi cazzo come una bestia il fatto del social doveva unire no cioè nel senso le camgirl che stavano lì e parlavano con i propri fans in teoria veramente instauravano un rapporto con le persone sempre finto uguale sì ma se non devono dire che è finto cioè devono mantenersi nel è il truppo dell'illusionista sì una sorta di illusione però guarda che è la stessa cosa se tu vai a vedere non è che ti dicono guarda che è finto eh guarda che è finto e poi fanno la parte ma infatti quello che ho detto anche ieri sul fatto di non dire alcuni dettagli della vita privata tu in quel momento stai parlando con una performer ok quando vai a vedere lo spettacolo di david copperfield o di steven art tu non vuoi che lui a fine spettacolo ti riveli il trucco giusto? io voglio che se ne vada vabbè a fine spettacolo se ne va sei consapevole dell'illusione ma infatti secondo me come si ottiene questa consapevolezza da parte degli utenti? dei fruitori informandoli ok? ovviamente alcune alcune sì ma non per chi vive delle situazioni di disagio ed è per questo esattamente come per la vicenda della donatrice eccetera personalmente se io facessi questo lavoro qui tenterei ove ho elementi necessari perché se parli se parli con una persona che non conosci non lo puoi sapere no? uno che te dona non lo puoi sapere stare attento a certi meccanismi che sono preoccupanti anche per il creator stesso perché la stessa Amurant ma tante altre creator anche italiane e poi sono state magari vittime di stalking da parte di gente che donava gente abbonata perché? perché se non capisci che quella è effettivamente una performance magari te innamori sul serio ti innamori tra l'altro di personaggio di finzione chiudo dicendo che cosa bisognerebbe fare? quindi informare e fare tanti talk parlare della questione senza neanche glorificare troppo ok? questa figura ma renderla esattamente uguale a tutti gli altri lavori i lavori si possono fare con una certa consapevolezza con una certa etica oppure si possono fare di merda come tutti gli altri lavori rispondo un attimo al buon metatesis allora stai facendo sofismo per giustificare una pratica commerciale scorretta allora sofismo lo dici a tua sorella mi sto a fare un culo così per spiegare un discorso che è anche complesso no ti sto dicendo che esistono le pratiche commerciali scorrette anche la pubblicità ingannevole in tutti gli ambiti anche qui lo si può fare e secondo me va combattuta prima con l'informazione che è banalmente il libretto del consumatore per altre cose cioè tu non ti devi fare illudere della pubblicità che fa questo devi sapere che nella pubblicità c'è anche un margine in cui tu puoi sparare qualche cazzatina ed è tollerato un esempio banalissimo zero zuccheri in realtà tu puoi scrivere zero zuccheri sul packaging anche se non sono propriamente zero ma entro una certa percentuale tante cose che magari la gente non sa anche in un settore nuovo come quello del sex working ma anche banalmente dello streaming ho finto di rompercassi lasciamo stare che lei ha anche OnlyFans amore e tutto quanto però qua si parla di gente che ha richiesto dei found non di OnlyFans ma di donazioni su Twitch assimilare questa da una pratica commerciale prima cosa non è commerciale stai vendendo un prodotto visto che le persone stanno facendo una donazione volontaria e è assurdo pretendere che una donazione possa comprarti un rapporto umano con una persona e in questo quando riguarda donne così belle donne così ambite c'è un sessismo raga sistemico mi dispiace fa sempre rompere su sta cosa però nessuno chiederebbe un rimborso a Dario Moccia se sapesse che ha già un migliore amico e non me l'ha mai detto io gli donavo tutte le salle perché aspiravo ad essere il suo migliore amico lui è stato scorretto non me l'ha mai detto non è divertente nessuno direbbe così però qua c'è la componente sessuale cioè non è la stessa cosa ma che vuol dire quindi tu stai dicendo stiamo ammettendo che chiunque dona a Amurant lo fa non per don sostegno per i contenuti che porta perché comunque dice voglio avere quell'1% non è per Amurant è per secondo me è per chi come lei su OnlyFans tu ad esempio tu non puoi messaggiare con una credo se non paghi su OnlyFans tu per avere un rapporto con quella persona la promessa di un rapporto dipende come la gestisce lei perché è che non ne sono tutte perfette lì ma l'ho fatta prima la distinzione e allora qui mi si sta dicendo che è assurdo non ti poterci parlare per poterla conquistare se io ho pagato con la promessa che pagando poi iniziamo ad avere una conversazione una conversazione epistolare come la cazzo lo vedi che amare se non rapporto con questa donna lei mi dice delle cose ci scambiamo delle cose che portano comunque a farmi spende spende e poi scopro che è tutto basato su una cazzata potrei incazzarmi e chiedere imborso sì ma ti dico una cosa questo è un ragionamento fallace a priori perché se tu stai pagando per avere un rapporto reale con una persona e parlarci in chat anche se lei ti ha mentito all'inizio se è disfunzionale bisognerebbe chiudere holly fans no è disfunzionale per te che credi che questo possa essere un rapporto serio dipende lei come te lo pone ma il discorso sta alla base perché se tu stai comprendo la possibilità al tuo modo di vedere di poterci installare un rapporto reale poterci parlare che effettivamente non c'è Sergio dietro ma c'è sta lei anche se lei ti ha mentito se tu pensi di avere una possibilità di scoparla e di conquistarla ti preoccupa che tanto se ce parli per un anno gli paghi tutti i mesi prima o poi la conquisterai e lei ti dirà la verità non è per quello perché tanti rapporti anche normali se basano Alizio su una menzogna lei ha detto non ti ha detto che era sposata poi dice guarda sono sposata però lascerò mio marito e tutti i suoi felici e contenti se io voglio supportare una persona se io voglio supportare un creator voglio supportare Dario Moccia ad esempio torniamo a Dario Moccia con un maschio ok io voglio supportare torniamo a Dario Moccia con un maschio è bellissimo lo voglio immaginare io ho fatto un repound per esempio da Dario Moccia perché pensavo fosse mio amico poi non mi ha invitato al matrimonio ad esempio quello oppure che ne so io faccio la sub a un creator X ok e inizio a parlarci perché sono uno dei suoi più grandi mecenati no poi scopro che tutto quello che mi ha detto è una cazzata beh mi parlo del culo sì non farei un buonamento che cazzo stavo sostenendo una persona che non conosco una persona che si è inventata no no fermi no perché se mo' si unisce ah Holly Fanzer è anche streamer è anche instagramer allora che funziona anche nel tuo caso e allora anche con me scusami chi dona qui non dona a Simone Santoro persona fuori dalle telecamere che non conosce giusto dona a Dudubbi del Cerbero Podcast che mi sta simpatico mi piace la sua personalità io mi immagino magari nella vita se io gli dessi l'illusione che parlando con me si costruiscono una sorta di rapporto io mi invento tutte cazzate io posso benissimo farlo per aumentare i soldi che la gente mi dà per farmi cari cazzi miei ma non mi stupirei nel momento in cui scoprono che io ho detto una marea di cazzate allora che mi chiedono un rimborso comunque si incazzano e c'è una rivolta ma l'incazzatura ci può stare però secondo me ripeto il problema qual è che se tu già parti alla base con questa associazione qui io pago una persona per avere una interazione reale con questa persona è già sbagliato cioè vuol dire che tu già stai partendo con un'informazione che ti manca ma loro te la vendono come reale è questa la cosa fatemi finire in attimo fatemi finire in attimo questo è il secondo punto è importante allora il primo punto è questo alla base informazione comprendere che quella è una performance non è un rapporto reale per avere un'interazione reale con una persona il messaggino che ti arriva è una performance il messaggino che esperienza è il messaggino il fatto che tu se me fa definire una frase il fatto che tu messaggi con una e ti risponde è una performance è un'esperienza sì che esperienza è di parlare con Amurant e allora io non sto parlando con Amurant se parlo con una esattamente con Amurant con un personaggio fittizio che Amurant non è il numero ma nessuno ha detto che avrei parlato con un personaggio fittizio io pensavo che sta parlando con la ragazza che stream sei una persona che non ha informazioni ma noi ce l'abbiamo perché siamo addetti ai lavori è quello che ti sto dicendo da tre ore ho capito ma molte persone non lo sanno è quello che ti sto dicendo da tre ore ma il problema è a monte con Twitch e con cose del genere quando si tratta di quando si fa refund di donazione una donazione libera non è l'acquisto di nessun servizio quindi se tu dici io penso di comprare la sincerità di questa persona poi questa persona ti mente tu hai pagato per una donazione libera hai fatto una donazione volontaria a una persona poi decide di non farle più in futuro perché sei rimasto deluso tu dici non ho avuto quello per cui ho pagato te hai pagato per una donazione a buffo a babbo morto che non richiede nessun prodotto in cambio la donazione a voi è una donazione è per lei le founder delle donazioni su Twitch però è interessante anche questo punto cioè nel senso donazioni su Twitch lo leviamo dall'equazione ma anche forse le founder di OnlyFans ho esteso il discorso all'abbonamento di OnlyFans che ti consente di parlare in direct con la creator sì ci sta secondo me io l'ho detto il quadro è questo è comunque un lavoro un ambito nuovo o un nuovo cambiamento di un lavoro che già esisteva ok quindi paghi per avere un'interazione con una persona che sia sessuale o meno magari prostituzione escort paghi per andare a letto o per andare a cena con un'altra persona io sto pagando quindi nella mia testa dovrebbe già partire la consapevolezza che questo non è un rapporto che nasce da un qualcosa di ricambiato ok è uno scambio soldi per servizio siamo d'accordo perfetto è equivalente a OnlyFans io ti pago ok per ricevere la tua fotina dove scrivi il mio nome sul culo io ti pago per ricevere per avere una conversazione con te bene se questa cosa non c'è alla base la consapevolezza di chi compra questo servizio vuol dire che c'è un problema c'è un problema che va risolto c'è evidentemente dal punto di vista dell'istruzione oppure esiste il problema ed è quello che dico da un'ora e infatti visto che ripeto se abbiamo tutti capito che un film è un film e non si scappa più dalla sala quando arriva il treno come è successo quello mi era anche se poi è stata ingigantita quella storia non andò proprio così però ok abbiamo capito che quella è fiction e quindi dopo un film horror diventiamo tutti degli assassini o quegli attori non sono morti veramente quegli animali non sono morti veramente tranne in Cannibal Olocaus di Ruggero Deodato questo lo sappiamo sappiamo che un film porno è un film porno parzialmente la reazione cinematografica vuole oggi serviva se questa cosa è stata diciamo comunemente accettata e tutti quanti ne sono consapevoli cioè io vado con una prostituta ecco salvo problemi magari di persone che hanno effettivamente dei problemi sociali molto grossi dei problemi mentali perché c'è anche chi si innamora delle prostitute un po' nessuno ti vieta di provare a conquistarla se vuoi comunque è una persona però non puoi non puoi partire dal presupposto che se pago una di base quella sta con me in quel momento perché lo vuoi poi magari non si sa infatti perché non puoi conquistare una prostituta che non cerca un amore però se non riesci a conquistarla poi non puoi lamentare io ti ho pagato tutto sto tempo e non te sei fatta conquistare uno deve capire che è separato dalla prestazione lavorativa infatti quella su OnlyFans tu quando paghi per una chat tu paghi per una chat non paghi per una chat sincera esatto tu paghi per parlare ma soprattutto di base tu ti presenti là tu l'hai prenotata su un sito e un'altra persona tu puoi chiedere un rimborso oppure non pagarla là può essere pubblicità ingannevole ma se c'è scopi e questa scopa male e tu non sei soddisfatto da scopata allora non chiedere un rimborso perché un altro ha detto tu paghi per scopare per farti la migliore scopata della tua vita soddisfatto di rimborso tu hai parlato c'hai scritto 250 euro 300 500 euro 1000 euro e scoperemo un'ora hai scopato un'ora te ne vai a casa se t'ha fatto schifo non è che poi dici chiedere un rimborso non tornerò più esatto se sei deluso non chiedere un rimborso allora mates io non sottopolo ovviamente ci sono anche persone che hanno dei problemi e cercano la loro soluzione perché non riescono a parlare con le donne anche con gli uomini ripeto quando abbiamo visto i video di Roy lui stesso diceva ci sono donne che mai rivengono con me anche grandi perché non riescono ad avere nessun tipo di interazione con gli uomini perché si sentono troppo vecchie perché hanno paura di fare la prima esperienza sessuale con un uomo cioè sono delle meccaniche spesso di disagio che andrebbero disagio sociale che andrebbero diciamo affrontate a parte quindi con un percorso psicologico ok però un conto è chi abusa di questa cosa esattamente come gli streamer che poi fanno finta di essere amici di alcuni donatori in privato insistono ah venite live che oggi ci divertiamo per ricevere questa cosa allora lì c'è un abuso che vale in tutte le professioni può esserci la pubblicità ingannevole può esserci tanto altro un conto è la professione in sé cioè il servizio offerto in sé questo è secondo me quindi alcune persone possono comportarsi in maniera anche truffaldina sì certo lo puoi fare però questo non deve questo non deve mettere la base diciamo per ok io adesso sto comprando una conversazione con te quindi per forza questo scambio sarà sincero anche perché tu hai comprato lo scambio di conversazione non è scambio sincero non con come si chiama lei? è il rapporto con il tuo idolo capito? ti crolla non la persona eh va bene tanto c'è un rapporto come abbiamo pure detto prima pure con i mod di sudditanza spesso e volentieri c'è chi si vuole far calpestare e tutto io mi faccio calpestare dall'idea che ho di Amorant non da lei nome e cognome ma io ti ripeto che secondo me chi compra questa cosa manco vorrebbe la vera persona sì ma ormai nel mondo social degli influencer uno ha l'illusione che un po' conosce la persona reale se no che cazzo stiamo a fa' cioè un'illusione di un minimo capire chi stai vedendo davanti alla telecamera c'è là è così che magari mi appassiono ad un creator rispetto a un altro perché trovo anche delle similitudini con me però qua non dobbiamo confondere i settori cioè nel senso se io poi scopro che quell'influencer non è la persona che io ho voluto seguire e sostenere non lo seguo più o non lo sostiene più non lo seguo più però non è che chiedi rimborso dell'intrattenimento che ti ha dato fino a quel momento no non è che richiedo rimborsi delle sub lo capisco lo condivido nel momento in cui è vero ed è chiaro che questo tipo dei nuovi mestieri che prima non esistevano lasciano una una vaghezza etica una terra di nessuno etica in alcune sfumature e chi vive e lavora esclusivamente cavalcando quelle sfumature basta e facendo la fonte principale del proprio guadagno merita di non avere più followers e anche magari di essere ostracizzata da quelli che hanno creduto nella loro genuinità però per tutti quelli che non lo fanno e laddove c'è una pretesa da parte dell'utente la bisogna fare un'educazione quanto prima etica e anche sentimentale a questo tipo di approcci con questo tipo di lavori perché altrimenti si rischierà di arrivare a un punto in cui diventerà normale acquistare l'umanità delle persone diventerà normale pretendere di farlo e non ci dobbiamo arrivare quindi questi mestieri stanno nascendo adesso bisogna appunto fare tante di queste riflessioni adesso perché in tanti casi si sta già arrivando ad una schiavitù ideologica nel senso io l'ho pagato e mo che fai cioè non tu devi stare sentito devi comunicare con me e poi dico vabbè ma a tanti conviene comprare l'experience perché tu pensa se uno pagasse a me perché vuole diventare amico mio io dico vuoi che mi comporto come faccio in amicizia e mo mi scrivi mi chiami io riprendi la telefonata mo ti chiami per traslogo i problemi io dico oggi me lo del culo eh vaffanculo sono depresso che palle perché sei depresso boh non lo so manco io perché so che a me mi capita un sacco di volte non lo so boh mi sento proprio spento oggi boh chiacchieramo quello diceva vaffanculo io l'ho pagato che devi quello dice stronzata ma infatti io sono anche cioè nel senso non sono sorpreso però leggo delle cose pensate di parlare con Davide o con mister Marra ecco io qua volevo arrivare con noi molti pensano che sta a parlare Davide sì non c'è questa porco dio di distinzione è una stronzata per noi che ci lavoriamo ma la gente la popolazione non lo sa il problema è reale è una sorta di raggiro per noi che lo sappiamo io lo so che qua io non sto a parlare come Simone io lo so che sto a fare un personaggio ma do l'illusione per guadagnare quante volte l'abbiamo detto adesso una oggi oggi adesso noi abbiamo detto siamo noi cioè Simone tu hai perso tutti i tuoi iscritti OnlyFans facendo questa cioè è ovvio che poi stanno in live ogni giorno vengono fuori determinate parti di noi ma tu non sai tu personaggio esatto ma dobbiamo mantenere l'illusione se no crolla il cerebro podcast zì allora tesoro il cinema è illusione secondo te sì e quindi anche Twitch è un'illusione a parte che tutto è un'illusione ma perché la televisione è un programma zì come diceva Dave ma la gente non lo sa e noi ci giochiamo su questa cosa sul fatto che io sì eh tu io no tutti lo fanno io no e ti spiego perché perché se il problema è che le persone non sanno di star guardando un intrattenimento poi per carità su Twitch ci sono anche sprazzi del reale Simone del reale Davide del reale Dave perché per forza di cose stai live tanto come ho detto prima ogni tanto esce fuori ma loro non hanno vissuto con te cioè io so ma loro pensano di conoscermi io pure so parzialmente come sei te con tutto che abbiamo vissuto insieme giusto? sì ok però pure dai commenti che ci scrivono l'illusione di conoscerci è reale è presente ed è basta è anche vero che noi parliamo molto di noi stessi e non è che diciamo cazzate però sai benissimo che c'è un'infinità in più sì che loro non sanno non posso neanche iniziare a immaginare né la immagino io per quelli che seguo io però ho l'illusione di conoscerli io ho l'illusione di conoscere PewDiePie per tutti gli anni che l'ho seguito sì ma questo vale anche per me questo vale anche per me io quando cioè io la ho per Woody Allen ok dico ragazzo vedo un suo film già so dove va a parare perché ho visto 50 film ho letto tutti i suoi libri magari so come la pensa e questo è vero nel nostro caso cioè la differenza tra uno che magari ha un personaggio completamente di finzione esempio che ne so me contro te ok quello è un gioco esattamente un gioco diciamo delle parti esattamente come la melevisione siamo d'accordo su questo cioè nessuno sì ma con la nostra cioè con il just chatting con quello che facciamo noi nel nostro caso è un po' diverso noi cerchiamo di renderlo il più sottile possibile quasi trasparente ma è così perché io quando parlo ma sarà sempre opaco allo 0.001% ci sarà sempre un ma infatti io dico sempre le mie idee sono vere cioè quello che dico qua è quello che ci diciamo pure quando stacchiamo ok chiaramente è anche una performance quindi quando siamo in giro al bar non ti metti a urlare così ovviamente no chiaramente quindi quello che diciamo è quello che pensiamo quindi lì non c'è una menzogna ovviamente tutto il costrutto è uno show altrimenti come dice Dave io verrei qua scoglionato vi racconterei sapete che stanotte ho dormito un'ora e mezza lo sapete che che Asia mi ha sporcato tre magliette di fila e così lo sapete che mi ha rotto il cazzo il vicino lo sapete che lo sto pagando a Dave sarebbe avresti più spettatori saremmo beh dipende dipende non dovrei mettere guarda un po' lo facciamo anche ci sta però noi mettiamo sempre ovviamente una maschera tra virgolette a volte penso proprio al meme uno che piange con il meme quello che dietro piange con la faccia che ride ma questa cosa non è una bugia è il rispetto per chi ti segue altrimenti stare qua scoglionato oggi me va e non cazzo perché me va e no io sto lavorando esattamente come in palestra io andavo lì andavo col sorriso anche se me lo devo al culo e che quello dice me stai a prendere per culo no te devo allenare quello è il mio lavoro qui che devo fare te devo intrattenere o devo essere amico tuo eh ma se il tuo lavoro per la gente sei te stesso davanti a una telecamera sta lì l'inganno sono me stesso nelle cose che dico inganniamo tutti sì ma richiedere la realtà assoluta la sincerità assoluta è la morte del mondo dello spettacolo non potrebbe cioè se succedesse finirebbe un settore non sarebbe più così esatto prima c'erano i grandi professionisti della tv tutto andavi a casa la sera dopo una giornata di lavoro te accendevi la tv e c'è stato il presentatore bello incravattato con le telecamere ora ci stanno ragazzi di tutti i giorni ragazzi di tutti i giorni in cameretta l'illusione di stare parlando con la persona e non con un personaggio è enorme e molti ci giocano tutti ci giocano chi più chi meno da quando esiste il contenuto su internet da quando esistono gli youtuber c'è questo rapporto fa parte della secondo me twitch ha portato questa cosa all'estremo perché ovviamente c'è un contatto molto più diretto rispetto a quello che potesse con un youtuber oppure tramite un influencer su instagram che c'hai un contatto filtrato da mille sovrastrutture mentre su twitch tu lo vedi anche magari 28 su 24 perché fa le maratone ci puoi interagire puoi entrare nel suo gruppo privato le telegram perché hai pagato la sub puoi fare le donazioni e tutto quanto quindi in questo caso bisogna proprio rendere le persone edotte di questa di questa sfumatura uno ha chiesto è una truffa allora ad esempio metto in mezzo Gianluca che manco c'è però per farvi capire che per me non è una truffa però voi che guardate per due minuti di fila uno che magna il burger king e fa dei versi col volume a palla è Gianluca e va bene fosse qualsiasi altro uno dice ma che cazzo sto a guardare oppure io che mi metto a fare un monologo sulla mia vita sui trapani lo seguite perché so io perché c'è una percezione che sta parlando Simone Santoro a voi ma in qualsiasi altro ambito cioè io sto spendendo il mio tempo addirittura soldi per vedere uno che fuma uno che magna il burger king è la truffa effettivamente siamo tutti dei truffatori come diceva Anna Marchi